La nostra città è tornata covid free, ha dichiarato ieri il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, il dipartimento di prevenzione ASL, continua il sindaco, mi ha comunicato la guarigione degli ultimi otto concittadini che erano risultati contagiati nelle scorse settimane, quindi ad oggi non risultano casi di contagio. Una bellissima notizia che acquista ancora più valore perché è concomitante con l'inizio della stagione estiva. Per quanto riguarda i vaccini sono state 19.078 le somministrazioni totali aggiornate al 23 giugno, 12.345 i concittadini che hanno ricevuto almeno la prima dose con una percentuale del 57%. Disponibilità di dosi permettendo confidiamo quanto prima di arrivare a percentuali maggiori. Sarebbe un ulteriore bel messaggio per spingere i turisti e a scegliere la nostra città quale meta per le proprie vacanze. Con l'arrivo del caldo abbiamo provveduto a far montare dei teli ombreggianti nel percorso d'ingresso del centro vaccinale di Via Taverne e sono stati già ordinati ulteriori condizionatori che verranno installati all'interno per un maggior comfort degli utenti.